... ... ... ... ... ... Questa è la quarta e l'ultima, se gli spionati di qualificati, c'è una nuova dimensione, abbiamo 18 milenite che preveranno il più grande, quindi gli stessi, due, 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 una cosa sperata. Poi, infatti, si ripeterà tutto come si, ma la doppia eliminazione, che sarà a 2 sinistretti, la darà una sei, il doppio, la doppia eliminazione sarà una sei, e poi, a partiremo, ci si può vivere senza singola. Siamo al passaggio degli omicicini interni, tutti gli occhi a questi che santano! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Occhio Lulli, occhio Lulli, occhio Lulli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.